Benvenuti a Saverno dove la bellezza naturale incontra l'innovazione medica. Nell'undicesima edizione del congresso nazionale del gruppo campano RL esploreremo il crocevia tra intelligenza artificiale e intelligenza collettiva. Ogni giorno migliaia di specialisti si dedicano a osservare, ascoltare e diagnosticare ponendo il paziente al centro del proprio impegno. La diagnosi accurata è il risultato di un percorso mentale ripetuto che combina esperienza, tecnologia e intuizione. L'intelligenza artificiale non è un sostituto, ma un potenziamento del ragionamento clinico. Endoscopi di ultima generazione, imaging avanzato, reti neurali ci permettono di vedere ciò che era invisibile. Queste tecnologie, utilizzate a valle del ragionamento clinico, ci aiutano a migliorare la precisione diagnostica e a progettare terapie più efficaci. Ma la tecnologia da sola non basta. L'intelligenza collettiva, la collaborazione tra specialisti di diverse discipline è ciò che arricchisce davvero la nostra pratica. L'approccio multidisciplinare amplifica l'efficacia del trattamento, unendo competenze e prospettive diverse, per il bene, prima di tutto, del paziente. Unisciti a noi a Salerno, nella splendida cornice prenatalizia, per l'undicesima edizione del congresso nazionale del gruppo campano ORL. Scopri come l'innovazione e la collaborazione possono trasformare il futuro della medicina ORL, sempre nello spirito nostro che è quello della inclusività. Ti aspettiamo!